Fidati del Signore, anche se tutto sembra difficile, se tutto è pesante in questo momento, fidati del Signore. Grida forte, Gesù io confido in Te, io non ho paura Signore perché appartengo a Te, niente e nessuno Signore ti può fermare, niente e nessuno può bloccare i Tuoi progetti. Io confido in Te, Gesù, nel Tuo amore, nella Tua misericordia e credo che i Tuoi progetti si realizzeranno. La paura non mi soffora, l'ansia non mi blocca perché, Signore, è tutto nelle Tue mani, tutto è nelle Tue mani, Signore. Tu realizzi i Tuoi progetti. Sì, oh Signore, si realizzerà la Tua volontà. Niente e nessuno può bloccare, può solo rallentare, ma non bloccare. E in questo, Signore, noi credo crediamo e confidiamo in Te, ci fidiamo di Te, ci affidiamo a Te, perché noi apparteniamo a Te, siamo Tua proprietà e noi siamo preziosi, Signore, nel Tuo cuore. Niente e nessuno ci fa paura, Signore, quando noi siamo con Te, perché Tu tieni la nostra mano. Signore, noi ci abbandoniamo a Te, anche se a volte il nostro amore vacilla. Noi ci abbandoniamo a Te, con questa certezza, Signore, noi eleviamo a Te quella preghiera che Tu hai chiesto a Santa Faustina. Gesù, io confido in Te.